In realtà il professor Marano è autopresentante, comunque penso che i nostri studenti sappiano che è un nostro collega professore da noi, un antropologo visivo, dirà meglio lui che cosa vuol dire, di cosa si occupa, e ci parlerà, la cosa interessante secondo me è che ci parlerà anche lui di un progetto di ricerca che è ancora in corso. Anche in questo questi seminari servono agli studenti per imparare su dei temi, ma anche per mettere insieme un filo rosso su cosa significa fare ricerca. Fare ricerca è un lavoro che è ongoing, come diremmo con un termine molto efficace inglese, quindi un qualcosa che non è necessariamente detto e finito in un intervallo di tempo limitato. E allora lascio la parola al professor Francesco Marano, io raccoglierò le vostre sollecitazioni, domande, curiosità, se ci sono come sempre, sulla chat e poi ogni tanto le riporterò al professore, o se ho io stessa delle curiosità e lo interromperò. Eccoci qua allora. Va bene, grazie. Allora, antropologo visivo. Cominciamo da questa etichetta che ormai mi mettono tutti, perché il mio principale campo di interesse, di ricerca, è l'antropologia visuale, però mi occupo anche di altre cose, l'antropologia del cibo, l'antropologia dei patrimoni, se vogliamo, e ultimamente anche di antropologia urbana, perché questa ricerca che ora vi presento in realtà può essere etichettata, se proprio ci piace mettere delle etichette, cosa che a me in genere non piace, però, volendo mettere le etichette, può essere etichettata come una ricerca di antropologia urbana, perché si sta svolgendo in città. In realtà l'antropologia aveva un'altra etichetta di scienza che si occupava dei popoli extraeuropei, degli indigeni, dei popoli lontani da noi, mentre i sociologi si occupavano delle città. Queste divisioni di confine sono un po' venute meno ultimamente, gli antropologi si occupano di città, i sociologi si occupano di tutto, quelli lontani da noi sono ormai vicini di casa, e quindi queste categorie è un po' difficile applicarle. Però va bene, antropologo visivo, visuale, insomma, va benissimo. Sono un antropologo. All'università qui insegno antropologia visuale, appunto, etnografia nella laurea triennale, etnografia e arte sempre nella laurea magistrale. Allora, questa presentazione, non so come chiamarla, non è così organizzata come voi forse spererete, ma abbastanza improvvisata. È proprio in questi giorni che io sto finalmente, diciamo, scrivendo qualcosa di tutta questa ricerca sul rione Malve, questo è l'oggetto della ricerca, uno dei rioni dei sassi di Matera, ora poi vi spiego dove si trova, è una ricerca che ho condotto proprio a mozzichi durante gli anni, con varie permanenze sul luogo a Malve, varie interviste con persone che abitano a Malve, non sono queste interviste, non sono terminate, perché ci sono ancora un paio di persone almeno che hanno avuto un ruolo importante in questo particolare rione della città. e quindi è una ricerca in corso. Adesso io ho anche un PowerPoint, perché in realtà ho parlato già altre volte di Malve, sia di Malve come paesaggio, che come vicinato in convegni negli anni scorsi, quindi ho recuperato un vecchio PowerPoint, che mi dovrei vergognare a presentarvi, visti PowerPoint che io sempre vedo, fatti dagli studenti di architettura, e degli architetti che sono delle opere d'arte, più che dei PowerPoint, quindi mi scuserete sull'approssimazione con cui ho fatto questo PowerPoint, che forse devo presentarvi subito per farvi, perché non tutti voi, credo, siano di Matera, per cui se dico Malve è una parola sconosciuta probabilmente, o no? Sì, è così, è così, Francesco, fai una intervenzione di cornice, comunque, un minimo. Naturalmente io non mi sto riferendo alla professoressa Macaione o a Silvana Chiuzzi, che conoscono benissimo Malve, ma mi sto riferendo agli studenti, che sono i miei interlocutori in questo momento. Normalmente io ho pochissimi studenti di Matera, quindi probabilmente sarà così anche qui. E quindi Malve è un rione dei sassi di Matera che si trova scendendo via Bozzi, che almeno forse questo voi conoscerete, questa strada che scende da Casal Nuovo, da Palazzo Lanfranchi, poi scende giù, gira a sinistra, e poi termina su Piazza San Pietro Caveoso. A un certo punto, a metà di questa strada, di questa discesa, che è via Bozzi, si prende un vicolo sulla destra, che si chiama Via San Leonardo, o Vico San Leonardo, adesso non ricordo bene, e si arriva in una zona quasi circoscritta di abitazioni che si distinguono dalle altre anche perché sono tutte quante decorate con giardini esterni, giardini nel senso di piante ornamentali più che di piante coltivate, ovviamente. e quindi assume già subito una sua identità particolare che distingue questo rione dagli altri dei sassi di materia. Questa è la slide iniziale che ho utilizzato per altri convegni, infatti vedete sotto c'è la data Spazi del 2017, per cui questo vi dà anche l'idea di da quanto tempo io sto facendo qualche ricerca in questo rione. vediamo allora ecco qua, in questa slide vediamo un attimo la collocazione di Malve rispetto a via Bruno Bozzi che è la strada la strada in basso al rettangolo Fucsia dove ci sono delle macchine, vedete le macchine parcheggiate, e quelle via Bozzi. Quindi tutta quella zona un po' più in alto è Malve che confina sulla destra con il rione Casalnuovo. Di fronte vedete già la gravina, per cui sotto c'è il torrente della gravina, c'è una specie di affaccio strapiumbo che dà direttamente sul torrente gravina, e sulla sinistra poi andate verso Madonna dell'Idris. Ecco, il luogo è proprio questo qui. In quest'altra diapositiva vedete l'affaccio sulla gravina. Ci sono le transenne, perché non state messe sempre in vista, queste sono foto che risalgono a qualche anno fa, quindi qualcosa sarà modificato, ovviamente, che risalgono appunto alle delimitazioni che furono fatte per il Museo Temo Epto Antropologico, la cui gara si è chiusa, insomma, forse conoscete un po' la storia. E dunque, già da questa fotografia dimostra come Malve sia, anche particolare, perché è un luogo di confine tra la città e la natura, che sono termini che sono molto cari alla professoressa Macaione, al professor Sicense. È un luogo quasi di attraversamento dalla città alla natura, a questo enorme affaccio che lo rende particolare, lo mette sul limite della città. In quest'altra diapositiva vedete alcune case, alcune abitazioni di Malve, una di queste due ha appunto una serie di piante davanti all'uscio della casa e sono abitazioni isolate. La diapositiva rimanda a un'occupazione degli anni settanta della quale parleremo parleremo dopo. Qui abbiamo un'altra diapositiva sempre di Malve e quel baretto che si chiama Stone Age che oggi è stato ristrutturato perché questa fotografia mostra il suo stato originale, originario e sicuramente avrei fatto altre fotografie se fossi potuto uscire in questi giorni per confrontarle su come nel resto il quartiere si sta modificando anche soprattutto grazie al turismo. E questa invece è la mappa, la pianta di un vicinato di Malve che fu studiato nel 1952. Adesso sto facendo una rassegna per darvi un'idea di che cosa è il Malve. In quest'altra immagine aspettate fatemi vedere un attimo sì in quest'altra immagine abbiamo invece questo famoso vicinato studiato dalla sociologa Lidia Derita nel 1952 nel suo stato prima della ristrutturazione che è avvenuta con l'allestimento del museo che vedete in scusate sbagliato in queste altre immagini la fotografia in alto a sinistra vi mostra come è stato modificato il vicinato a Pozzo soprattutto la prima in alto a sinistra Lidia Derita le altre sono altre foto che riguardano gli interni con le installazioni multimediali che hanno messo all'interno io questo vicinato questo primo luogo allestito per il museo non l'ho ancora visitato per cui non posso non ne parlerò ma sicuramente poi nel libro ne parlerò per capire com'è cambiato il significato di questo di questo vicinato a Pozzo allora allora che cosa intanto intanto quali sono stati i metodi che ho utilizzato per fare questa ricerca quello classico dell'antropologia che è quello che si chiama osservazione partecipante che consiste nel guardare cosa succede nel luogo cercando di partecipare alla vita degli abitanti di quel luogo questo è avvenuto naturalmente non è un luogo dove avvengono fatti specifici non so feste rituali pratiche annuali o quotidiane sociali particolari per cui l'osservazione è stata l'osservazione di quello che accadeva durante varie ore del giorno in questo luogo la parte partecipazione di questo binomio osservazione partecipante è consistita nel parlare con gli abitanti alcuni di quali già conoscevo prima è consistita nel realizzare quelle interviste e soprattutto di visitare le loro case che però non compaiono in queste immagini in parte perché in alcuni casi non ho potuto fotografarle e in parte perché sono rimaste sul computer all'università e come sapete non possiamo accedervi diciamo anche che il tipo di osservazione si è adeguata un po' a certi metodi contemporanei dell'antropologia in particolare a quella che viene definita la walking etnography cioè l'etnografia camminando e insieme a questo concetto adesso mi piacerebbe scrivere sulla chat queste parole ma non ci riesco però sono questo questo di walking etnography e l'altro è quello di emplacement emplacement significa si scrive emplacement come potete immaginare ed è un termine in realtà di origine militare che però viene utilizzato in certa antropologia contemporanea per indicare il prendere possesso del luogo possiamo dire così si potrebbe tradurre come installare nel senso di installare piazzamenti militari non è vecchio significato ma in quello diciamo etnografico ha il senso di appaisarsi in un luogo prendere una posizione nel luogo stabilire delle relazioni ma inserirsi diciamo nell'ambiente come parte di esso quindi questo già suggerisce un diciamo un cambiamento di prospettiva cioè quale quale cambiamento quello di non guardare il luogo o il terreno della ricerca come esterno a noi ma guardarlo come un componente una componente di un sistema di cose persone materie animali piante nelle quali è iscritto anche l'antropologo anche lo studioso ricercatore e che fa parte quindi di questo sistema per cui è un sistema mobile relazionale allora l'idea dell'osservazione partecipante come qualcosa che noi guardiamo da fuori da lontano presuppone intanto questa divisione cioè io che guardo qualcosa che sta davanti a me io a distanza io esterno io non implicato nella relazione io che per consentire una oggettività in una vecchia concezione positivista è una vecchia concezione che presuppone il non influenzare il fenomeno attraverso la nostra presenza attraverso le nostre emozioni attraverso la nostra interazione con gli altri ecco quindi il passaggio da questa prospettiva a un'altra quella di pensare invece la realtà come qualcosa in cui io sono dentro e dalla quale non posso escludermi e qualsiasi descrizione avvenga di questo luogo deve comprendere me stesso quindi ecco allora intanto che quella visione precedente vecchia cartesiana della separazione tra il soggetto che conosce e l'oggetto che conosce da conoscere presuppone una fissità un po' come la prospettiva rinascimentale dove il punto di vista è necessariamente un punto di vista di uno che sta fermo che sta fermo in un luogo e da lì tira fuori diciamo tutte le linee a partire dal punto di vista per costruire un'immagine bidimensionale abbandonando questa posizione ma abbandonandola perché riconosciamo che la realtà non è quella ma è quella della relazione dell'immersione il corpo non può più essere immaginato come un corpo fermo fisso in un punto ma come qualcosa che si muove insieme alle altre cose ecco che da qui allora in parte parte questa walking etnografia l'etnografia camminando ma perché poi anche noi abbiamo utilizzato questa cosa dell'etnografia camminando perché in realtà il camminare non stare in un luogo insieme a altre persone che ci raccontano di questo luogo è la situazione più normale di vita quotidiana che si vive insieme alle altre persone per farmi capire se noi prendiamo una persona la mettiamo dietro un tavolo e con un registratore davanti per raccogliere la sua intervista quella non è una situazione vicina all'esperienza di quella persona perché quella persona non appartiene diciamo alla sua esperienza di vita quel tipo di di interazione con una persona mentre invece il camminare parlando appartiene alla vita quotidiana lo facciamo tutti lo fanno in ogni cultura possiamo dire allora walking etnography diciamo parte da questi da questi presupposti e ci sono stati quindi dei momenti in cui io ho fatto questo insieme ad alcuni abitanti che mi hanno descritto il luogo camminando in base alla loro esperienza adesso qui si aprono tante questioni anche di carattere metodologico forse come rischio di fare una lezione di etnografia dal punto di vista metodologico però mi preme soltanto precisare questo perché sto ripensando a una di queste interviste camminando che ho fatto con una persona che nella vita quotidiana come lavoro fa la guida turistica e quindi inevitabilmente questa conversazione pur non essendo io un turista pur non avendo richiesto a questa persona una spiegazione del luogo come se fosse un turista la conversazione che ho registrato che ho videoregistrato di fatto portava i segni di questo posizionamento come diciamo noi particolare di quella di quella persona e quindi sembrava un po' come una una visita turistica nel quartiere però chiuso un attimo questo argomento del metodo si pone un'altra questione nel momento in cui mi metto a scrivere per la ricerca si pone la questione di che cosa è questo luogo di che cosa parlo io sì io parlo di relazioni ma dove in questo posto ma che cos'è questo posto come vedete dalla foto che che vi sto mostrando in questo momento questo posto ha un paesaggio per esempio però il concetto di paesaggio non posso più applicarlo nel senso vecchio della parola e per questo io vi rimando approfitto posso farvi vedere il libro che ho fatto con la professoressa Chiuz lo mostrerò dopo in cui il paesaggio viene dispiegato in tutte le sue tutte in molte delle sue in molti dei suoi aspetti uno di questi aspetti è appunto una critica al al paesaggio visto come un genere artistico visto come la veduta quindi visto come visto da una prospettiva oculocentrica come diciamo quella diciamo dalla prospettiva rinascimentale se vogliamo tornare a quell'idea cioè quella di una persona che guarda davanti a sé una veduta e questo termine non diciamo rientra nel nell'oggetto della mia ricerca perché ci può essere benché sarà comunque un paesaggio in movimento perché io mi sposterò in questo luogo come ho detto non sto mai fermo sto anche fermo qualche volta seduto al bar che vi ho mostrato prima o su una delle rocce vicino alla casa di un abitante o su quel muretto che vedete eccetera però sostanzialmente spesso il più delle volte mi sono spostato per capire sensorialmente questo luogo quindi il paesaggio è sicuramente uno un concetto che non si può eliminare da questa da quest'idea di di Malve allo stesso tempo però allora se non è un paesaggio è un luogo ma che cos'è un luogo e allora a questo punto vi riporto a una torniamo a una partiamo da qua e torno un attimo indietro per pensare al paesaggio il paesaggio landscape una parola inglese che appunto nasce nel 1500 più o meno poi ultimamente usiamo quello di soundscape per distinguere qualcosa che percepiamo con l'orecchio esclusivamente con l'orecchio infatti registriamo il soundscape con dei registratori però non vediamo quello che che c'è intorno questo è il terzo concetto che vedete nella slide lo vedete penso di sì task scape ho scritto bene? sì task scape è un concetto invece di di un antropologo che si chiama Inga Ingold che ha diciamo specificato un po' meglio il concetto di soundscape che è molto vago molto generico collegandolo all'attività umana visto che gli antropologi poi si occupano di attività umane pratiche sociali attività umane e task scape è il paesaggio delle attività tutto quello che noi sentiamo in un luogo è sentiamo scusate sentiamo percepiamo acusticamente con l'orecchio in un luogo è il frutto di di suoni sì suoni emessi dagli animali per esempio ma anche suoni emessi da gente che cammina gente che lavora che produce suoni battendo un martello su una tavola di legno o lavando i panni o cose di questo di questo tipo e quindi ehm il concetto che più si adatta diciamo a parlare del paesaggio in questo in questo in questo luogo che io chiamo luogo adesso uso la parola senza spiegarla ma lo farò dopo che cosa intendo per luogo è quello del task scape cioè un paesaggio di attività di cose che accadono lì intorno eh diciamo lì intorno questo limite dell'intorno poi non c'è è quello percepibile dai sensi quindi il paesaggio che comincia a diventare sferico c'è tutto quello che io percepisco intorno a me con i sensi dicevo il task scape è prodotto dalle attività che ci sono che sono intorno a me che mi sposto ecco voglio sottolineare questo aspetto per non farci tornare perché siamo abbiamo incorporato questa idea del paesaggio che qualcosa che sta nel rettangolo che si vede di fronte che sta nella cartolina che sta nella pittura di genere a paesaggio appunto ehm le altre tre cose che sono scritte sotto in parte le ho già definite l'immersione nell'ambiente quindi il passaggio da una concezione cartesiana a una sistemica hm e quindi il paesaggio diventando esperienza però a questo punto perché se io sto nel nel posto in cui sto eh mi muovo ascolto eccetera e il paesaggio viene rimanipolato come dire rielaborato in forma di un luogo ma che cosa è ancora un luogo non è ancora chiaro perché noi siamo abituati a pensare allo spazio e poi al luogo come qualcosa di più piccolo ma in realtà questi concetti hanno anche delle storie sono stati scritti dei libri lo spazio è qualcosa che è stato utilizzato sulle per è stato rappresentato attraverso le carte geografiche che sono carte politiche che indicano quindi territori poteri e anche passaggi di merci eccetera ma è qualcosa che è lontano diciamo dall'esperienza concreta che poi si coagula in un in un luogo scusate ho sbagliato ancora qui ecco allora il concetto di luogo che io utilizzo è questo qui in genere sempre questa è una frase che io cito spessissimo di questo geografo che si chiama Edward Casey che dice i luoghi non soltanto sono essi a casa siamo abituati a pensare al luogo come qualcosa appunto definito da confini in un micro spazio e questa diciamo è una visione un po' limitata del limitante del di luogo lui dice i luoghi accadono perché appunto sono dei task scape qualcosa accade dentro sono ambienti in cui succede qualcosa e ciò che dà l'identità a quel luogo non è tanto non sono tanto le case le piante o tutto quello che abbiamo visto le fotografie precedenti dove non c'erano esseri umani ma è tutto quello che accade come attività sociale quindi stavo dicendo i luoghi sono definiti da ciò che accade dentro questi luoghi ma non soltanto sono anche definiti da ciò che è accaduto e quindi si è stratificato nella storia di quel luogo nel caso nel caso di Malve sono accadute molte cose e quindi ciò che capiamo di un luogo è variabile dipende dalla conoscenza che abbiamo di quel luogo quindi è molto diverso sarà molto diverso sarebbe stato molto diverso andare a Malve senza ascoltare quello che sto dicendo io e poi dopo andarci dopo aver ascoltato quello che ho detto io ma purtroppo voi adesso non avrete la prima esperienza almeno chi non c'è mai stato perché Malve appare così diciamo come un luogo molto carino ben tenuto un bel panorama un bel paesaggio insomma ecco si limitava a quello però andare a Malve con la conoscenza della sua storia è diverso e quindi il luogo stesso diventa un luogo diverso quindi questa relazione tra uno tra un visitatore di quel luogo è è il luogo determina che cosa è quel luogo è inscindibile diciamo l'identità di quel luogo qui ho riportato un paio di frasi che diciamo problematizzano alcune cose che ho detto cioè il fatto che i luoghi sono sensorializzati e sono i nostri sensi come no in parte quello che stavo dicendo prima che fanno che fanno il luogo ciò che noi riusciamo a percepire però ciò che percepiamo dipende anche dalla nostra conoscenza il nostro bagaglio di conoscenze del luogo e un'altra cosa interessante è questa distinzione tra finger tongue di cosa e roba dove cosa è una cosa specifica e roba quando parliamo roba intendiamo qualcosa di non definito che cosa è quella roba no quando diciamo e e all'inizio diciamo che Malve può anche almeno fino a quando non ricostruiamo una storia troviamo un filo rosso come ho cercato di fare io nelle varie cose che sono successe a Malve Malve si presenta un po' come una roba più che come una cosa quest'altra frase sempre di questo antropologo che si chiama Stuart dice il senso del luogo è collocato in precisi modi di partecipare alle cose quindi anche ancora una volta l'identità e il significato di un luogo è dato dal modo con cui noi partecipiamo a quel luogo però dice anche un processo senza fine di ricordare riraccontare immagini e cose e ciò che fa chi conosce la storia del luogo e va e va a Malve un processo senza fine perché queste storie cambiano si modificano sono raccontate da persone diverse se ne aggiungono altre nel corso del tempo e quindi questo luogo si modificherà sempre ma andiamo allora ciò che ha caratterizzato Malve fino a oggi è stata questo quest'idea di vicinato è una storia cioè si parla del vicinato a Matera ovviamente sempre ci sono stati ci sono tanti vicinati a Matera ci sono stati tanti vicinati a Matera erano presenti in tutti i rioni dei sassi però il fatto storico che ha diciamo focalizzato e ha costruito il concetto di vicinato è stata la ricerca che Lidia Derita una sociologa barese ha fatto durante ha compiuto durante l'indagine sui sassi diretta da Friedman sempre appunto nel 1952 Friedman era un antropologo ha coordinato un gruppo di studi interdisciplinare tra i quali c'era Lidia Derita che decise di condurre una ricerca su quattro vicinati dei sassi quello diventato più famoso è il vicinato di Malve il cosiddetto vicinato a Pozzo vicinato a Pozzo perché vedete è chiuso è chiuso come come devo dire dentro un pozzo insomma è scavato quasi è quasi scavato dentro sotto il livello del del suolo quindi Lidia Derita condusse questa ricerca ma intanto perché condusse questa ricerca sul vicinato perché tutta la ricerca di Friedman come anche altre degli antropologi americani che negli anni cinquanta vennero in Basilicata erano segnate dall'idea dal concetto di comunità il concetto di comunità contadina e e quindi andarono in diversi paesi da Basilicata come Chiaromonte Pisticci Tricarico a a studiare queste comunità questi villaggi come delle comunità il concetto di comunità era molto comodo per gli antropologi perché consentiva un po' di riagganciare gli studi su queste comunità europee alle idee dei gruppi tribali degli indigeni degli indigeni extraeuropei per cui ebbe una certa fortuna questo concetto di comunità per tanto tempo diciamo fino al 1980 ha avuto una certa fortuna e serviva anche per distinguerlo da quello di società per cui c'erano le comunità e le società le società erano quelle delle città l'urban society e quella dei contadini si chiama la Pisan Society scusate la pronuncia di Pisan perché non riesco mai a dirlo correttamente comunque c'erano le comunità contadine e le società delle urbane che si distinguivano per la complessità per cui le città erano complesse e le le società le comunità rurali erano invece semplici concetti molto discutibili quello di complessità e semplicità ma comunque e quindi questo concetto vennero a studiare questi antropologi americani e lo stesso Friedman e i villaggi nel nostro caso i sassi di materia come delle comunità contadine in questo caso il vicinato era come dire un concentrato della comunità perché anche visivamente adesso noi vediamo la mappa ci dà l'idea di un piccolo nucleo sociale dove tutti abitano lo stesso luogo tutti vicini con delle abitazioni qua vedete appunto addirittura erano stati indicati i luoghi i posti dove erano allocati gli animali quante persone dormivano in un letto e insomma tutto scritto abbastanza e visivamente ci dava l'idea della comunità di persone che condividono pratiche un luogo ci sono rapporti di solidarietà eccetera ora questa ricerca di l'idea di rita questa ricerca di l'idea di rita diciamo i risultati di questa ricerca si basavano su due principali elementi da un lato sì c'era la solidarietà e dall'altro però solidarietà perché queste persone si prestavano strumenti andavano a mangiare a casa del vicino i bambini andavano a mangiare a casa del vicino se non c'erano i genitori che erano andati a lavorare in campagna gli anziani controllavano i bambini quando i genitori gli adulti cioè meno anziani erano andati a lavorare nei campi gli ho detto si prestavano strumenti insomma c'erano rapporti di solidarietà e tutta questa idea di comunità contadina era rafforzata molto dalla da una pratica che avveniva ogni anno che ancora adesso c'è ma non ne sassi che è quella di preparare la crapiata il primo agosto c'era l'usanza di questo pasto collettivo in cui tutti quando era possibile c'era addirittura alcuni vicinati ancora c'era adesso non so dirvi dove però c'era la possibilità di fare un fornello all'esterno nel quale sul quale veniva posta la caldata la grossa pentola nella quale ogni famiglia versava un po' di cereali o legumi quindi c'era questo miscuglio di cereali e legumi che venivano bolliti e poi venivano consumati collettivamente quindi questo pasto comune rafforzava l'idea che esistesse una comunità perché le persone facevano tutte la stessa cosa insieme e il concetto stesso di comunità è basato su alcuni stereotipi che poi sono stati smontati nel 1980 in particolare da un libro di un antropologo inglese che si chiama Anthony Paul Cohen che ha scritto un libro molto importante che si chiamava The Symbolic Construction of Community cioè la costruzione simbolica della comunità questi stereotipi erano quelli della uniformità dell'uguaglianza della non esistenza di gerarchie insomma tutte stereotipi perché poi anche nei villaggi si stavano ruoli sociali modalità per distinguersi uno dall'altro quindi non è vero erano tutti uguali eccetera comunque il concetto apro una parentesi il concetto principale è questo cioè secondo Anthony Paul Cohen questa decostruzione del concetto di comunità si basa sul fatto che il concetto di comunità è un concetto simbolico e quindi non sostanziale cioè la comunità non esiste in pratica però ogni tanto in alcune situazioni viene proposta l'idea che esista questa comunità quali sono queste situazioni quelle in cui i membri di questo gruppo si radunano possiamo dire intorno a questa bandiera simbolo della propria comunità per rivendicare dei vantaggi per rivendicare dei fondi alla regione per combattere un'altra comunità insomma tutte le varie divisioni interne che normalmente ci sono no perché si parla di comunità continuamente è una parola super super usata però noi sappiamo bene voi molti di voi magari vivono in qualche piccolo paese che si parla spesso della nostra comunità però poi sapete bene che all'interno questa nostra comunità ci sono famiglie che si odiano partiti politici che si combattono associazioni culturali che pensano di essere migliori delle altre ci sono comunità religiose differenti eccetera eccetera qui ci sono tante divisioni il che mostra come la comunità non esista però ogni tanto per qualche motivo conviene quindi situazionalmente occasionalmente conviene riunirsi dentro l'idea di una comunità e usare questo concetto per rivendicare qualcosa chiusa la parentesi quindi la crapiata servì molto agli antropologi degli anni 50 che studiano i sassi per dire che questa era una comunità coesa allora dicevo De Rita che cosa ha trovato in realtà che da un lato c'era la solidarietà ma dall'altro c'era una grande insofferenza delle persone a stare in questa cosiddetta comunità perché erano super controllate si controllavano a vicenda uno con l'altro soprattutto Lidia De Rita racconta dei bambini erano le spie del vicinato perché appena tornavano i genitori i bambini raccontavano tutto quello che era successo ai genitori che tornavano dalla campagna la sera e quindi c'è una certa ambivalenza di questo di questo vicinato solidarietà ma anche controllo un'ambivalenza che poi ritroveremo qualche anno dopo e ci arriverò quindi diciamo strutturalmente il vicinato è ambivalente e comunque questa immagine del vicinato è servita per parlare molto anche dell'identità di Matera l'idea di comunità come sapete bene è stata anche utilizzata per altri fini ma anche con altre connotazioni diverse dalla fondazione Matera 2019 per sostenere il proprio dossier tanto è vero che per esempio nel simbolo nel primo logo di Matera 2019 il disegnino chiamiamo disegnino che sta sulla sinistra in quel verde marrone è qualcuno ha scritto a proposito di questo disegnino che rappresenta tra le varie cose che rappresenta una è quella del vicinato a Pozzo di Lidia De Rita studiato da Lidia De Rita questo ciò che ha scritto Lidia De Rita sul vicinato a Pozzo lo potete trovare in questo libro scritto da collega Ettore Vadini e qui c'è riportato l'articolo di De Rita sul vicinato pubblicato nel 1952 su una rivista di sociologia questo invece è il libro di cui io ho parlato prima scritto da Silvana Chiuz e me curato da Silvana Chiuz e me lo vedete e quindi vi dicevo che questo quindi quel logo dovrebbe rappresentare in forma stilizzata il contorno del vicinato a Pozzo questo per dire come sia stata così forte diciamo l'utilizzo del concetto di vicinato ma anche di quella mappa l'altro significato a quale collegavano il logo è quello delle cisterne per cui quelle protuberanze diciamo così del logo vanno verso il basso sono le cisterne per la raccolta dell'acqua che troviamo nelle abitazioni nelle grotte dei sassi c'è un riferimento preciso diciamo a una cultura locale ecco passiamo a quest'altra vicenda storica dove il vicinato viene di fatto ricreato nel 1969 vengono avviati dei campi di lavoro da parte di un progetto si chiama Progetto Agna questo progetto Agna era diretto coordinato da Fabrizio Zampagni che veniva dalla Toscana adesso non mi ricordo bene più da dove da Arezzo forse e aveva organizzato questa attività di lavoro partecipativo nel rione Agna dove erano ospitati gli abitanti dei sassi tra l'altro se non sbaglio ad Agna c'erano proprio quelli di Casal Nuovo il quale mi racconta nell'intervista che per tre mesi durante i campi di lavoro dell'estate del 69 i giovani coinvolti svilupparono anche un'indagine partecipata orientata a conoscere le condizioni di vita di quegli ex abitanti dei sassi trapiantati nella nuova periferia urbana negli anni successivi l'intervento del progetto Agna si è stese anche altri borghi rurali va bene dopo questa esperienza nel 1975 Fabrizio Zampagni che è stato l'animatore principale delle vicende che sto per raccontarvi pensa di andare ad occupare le abitazioni di Malve e organizzano dei gruppi si tratta di tutte persone che non erano materane in questa prima fase dei gruppi dove partecipano soprattutto obiettori di coscienza per esempio italiani a quel tempo se non volevi fare il servizio militare potevi fare il servizio civile come obiettori di coscienza e quindi venivi dovevi fare questa attività e c'era una certa organizzazione per cui venivi smistato in certi punti dove erano organizzate queste attività e a Matera c'era appunto Fabrizio Zampagni che organizzava questi campi di lavoro con gli obiettori di coscienza vennero persone dal Belgio da Malta dalla Francia per passare 15-20 giorni nei campi di lavoro e il primo campo di lavoro fu destinato a ripulire il rione Malve poi ad essi si aggiunserà anche poi degli studenti di architettura provenienti da diverse unità italiane però questa presenza degli studenti di architettura questo mi interesserà era già avvenuta alcuni anni prima nel 1968 da parte di un gruppo di studenti di architettura molto creativi diciamo che erano che si chiamava gli uccelli gli uccelli erano un gruppo di 7-8 persone più o meno esiste un documentario che magari un giorno potrete vedere recentemente realizzato su questa permanenza di mi pare 3 mesi degli uccelli che però non abitarono a Malve ma in un'altra zona nei pressi di via Muro i quali occuparono delle case e costruirono una piccola comunità anche in questo caso non ricordo perché gli uccelli vennero con quale obiettivo per quale motivazione gli uccelli vennero proprio a Matera non saprei dirvi questo perché diciamo questa fa parte di un capitolo o paragrafo del mio libro sul quale non ho ancora lavorato però vi dico appunto che non è quella l'occupazione di Malve non fu diciamo la prima e dunque dicevo nel 1972 sono avviate queste occupazioni a Malve questa occupazione a Malve con quali motivazioni ci fu questa occupazione a Malve diciamo tutto si svolse dietro un discorso politico che riguardava che riguardava soprattutto l'opposizione tra funzione ed estetica l'opposizione della funzione estetica è quella diciamo l'ideologia che mosse gli occupanti cioè riportare le case a rimettere in funzione le case ristrutturandole ripulendole per soddisfare un bisogno quindi la funzione quello dell'abitazione o di abitare contro la funzione estetica che era quella del restauro architettonico ci fu il progetto sui sassi adesso non ricordo bene gli anni anche questa è una parte che ancora devo sulla quale devo lavorare nella mia ricerca perché non ho adesso i materiali però diciamo si poneva in opposizione all'idea del progetto del concorso dei per i progetti di ristrutturazione dei sassi per cui i sassi furono le abitazioni furono occupate ma anche con l'adesione del del genio civile che aveva diciamo messo a posto come si dice aveva fatto i primi interventi di manutenzione di tipo cementizio se così si può dire e e e e quindi perché fu scelto Malve proprio in continuità con la storia che era stata del vicinato che era stata avviata da Lidia De Rita il vicinato era una forma di comunità e così gli occupanti di Malve gli occupanti di Malve che si organizzarono in cooperative cooperative di artigiani che che si scambiavano lavori per la ristrutturazione delle case che costruirono una serie di iniziative di tipo partecipativo perché lì in quella zona i materani non andavano a meno che appunto non fossero organizzati degli eventi degli spettacoli delle delle attività infatti Fabrizio Zampagni racconta come qui leggete nella diapositiva facciamo laboratori di serigrafia coltivazione di funghi nelle grotte corsi di formazione di recupero del tufo legno eccetera eccetera e quindi il vicinato rappresentava una forma di comunità che questi abitanti di Malve riprodussero questi occupanti di Malve riprodussero riprodussero guardate bene siamo negli anni settantacinque quindi in un periodo diciamo post 68 prima della del movimento del 77 in cui anche in tutta Italia si erano si erano formate delle comunità BIPI per esempio in zone rurali quindi persone che vivevano una vita comunitaria con le porte aperte con continui scambi di relazioni di amicizie e di attività comuni per cui ecco che anche in questo caso quell'ambivalenza del vicinato di cui ho parlato prima si riprodusse perché è vero che c'era una forte solidarietà ma anche in questo caso il controllo era molto forte perché in quegli anni diceva uno slogan io me lo ricordo bene perché ho una certa età che diceva il personale politico e questo cosa significava questo slogan personale e politico che qualsiasi cosa fatta sul piano personale doveva essere coerente con un'ideologia politica per cui quando quando accadevano dei fatti diciamo personali fuori dalle regole questi queste persone venivano sottoposte a dei processi politici e c'erano assemblee come si mi racconta una delle abitanti mi ha raccontato una delle abitanti di Malve da sempre in cui le persone venivano appunto tra virgolette processate per dei fatti personali che non rientravano dentro un'ideologia comunista socialista non so bene come identificarla per cui diciamo anche in questo caso l'ambivalenza della comunità si riproponeva allora in quel periodo appunto dicevo furono organizzate delle 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 attività vedete in questo caso per esempio questo spazio qualcuno di voi lo conosce che incontriamo a Malve appena saliamo prima di arrivare al baretto sulla destra era lo spazio adesso immaginatelo privo di tutte quelle quelle piante era lo spazio dove venivano eseguiti rappresentazioni teatrali concerti era una specie di piccolo palco dove avveniva tutto questo le persone stavano davanti e c'era anche una partecipazione della città e nella fase successiva alla quale poi arriverò dopo alla fine dell'occupazione vedete insomma questi spazi hanno subito una privatizzazione mentre prima erano spazi collettivi vengono privatizzati e le piante stesse servono proprio come quasi puntelli per definire confini e spazi privati adesso la professoressa Macaioni mi ha raccontato che questo spazio è ulteriormente cambiato modificato perché pare ci sia adesso un bed and breakfast e quindi ha subito un'ulteriore modificazione esatto molto meno bello di così tutto questo discorso del rimettere in funzione le case di ripulire tutte le macerie che contenevano prima rimbiancare le pareti all'interno rifare i tetti distribuire elettricità perché poi solo Fabrizio Zampagna aveva una casa con l'elettricità e da lì distribuiva i fili della corrente dalle altre case quindi pagavano una sola bolletta diciamo così tutto questo discorso appunto diciamo politicamente ideologicamente riguardava l'area non solo la riappropriazione di questo quartiere ma anche la sua manutenzione e usarono questo concetto di manutenzione civica cioè persone che insieme decidono sono concetti che oggi sembrano 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 di oggi voi lo confermerete che vi occupate di questi metodi partecipativi per la pianificazione e la progettazione quindi lo chiamano manutenzione civica vabbè quindi diciamo c'è tutto un apparato ideologico che è fondato su idee di sinistra socialiste comunitarie collettiviste eccetera eccetera però e quindi questo era quello che veniva propagandato nel discorso sociale nel discorso culturale che riguardava Malve in quel periodo ma in realtà poi c'erano altri bisogni insomma che forse erano più legati all'individuo che erano quelli di avere la casa gratis quello di quello anche di occupare uno spazio diciamo per la sue per delle sue particolarità non politiche possiamo dire a quel tempo che erano invece oggi lo sarebbero che erano quelle del rapporto col paesaggio il luogo eccetera eccetera sul quale anche su questo faccio un cenno successivamente allora cosa succede dopo questo grande periodo di attività di attività politica mano a mano Fabrizio Zampagna andò via perché molte case furono abitate da materani che non avevano diciamo questa idea politica cioè non davano un senso politico a queste a questa loro occupazione risolveva dei bisogni primari più che altro quindi venne meno il significato politico Zampagni si allontana da Matera ma trova lavoro in un'altra città e questi spazi cominciano ad essere appunto come vi ho detto privatizzati vengono privatizzati e allora nell'intervista però dicevo oltre discorso politico c'era anche un discorso personale più intimo diciamo così ecco meno meno politico meno di facciata più intimo che però aveva il suo peso non lo troviamo tanto nel discorso di Fabrizio Zampagna perché nell'intervista è solo alla fine che emerge eh questo aspetto cioè quale e vi riporto le sue parole dice quel luogo rappresentava un contesto in cui il silenzio le pietre ti parlano cioè rispetto ad un'abitazione anonima di nuova edilizia c'era il piacere passano relazioni di giovani turisti che si fermavano che capivano che c'era un contesto di presenza giovanile andavamo sul cimitero barbarico la sera a fare poesie a suonare le chitarre e mettevamo in funzione il forno ci sentivamo di appartenere al luogo un privilegio ad un luogo carico di energia e utile a riscoprire le relazioni umane la struttura di vicinato che costringe a vedere chi passa a fermarlo a parlarci quindi tutto questo discorso no? c'era ma era tenuto represso possiamo dire perché eh era represso perché faceva parte di quella di quegli aspetti non politici personali che in quei momenti quel momento storico non avevano una rilevanza che forse oggi hanno perché quando parliamo di paesaggio e ambiente eh ci avviciniamo di più a questo tipo di considerazioni allora quest'idea invece mh della dell'avvicinato del del di Malve come luogo paesaggio natura eccetera eccetera è molto più presente in un'intervista che io qui non ho ancora utilizzato nei miei scritti che però ce l'ho eh di un altro abitante di Malve eh Fabrizio intanto Fabrizio Zampagni si è spostato questo va detto si è spostato a in una casa che di confine che sta nel rione Casal Nuovo ma eh praticamente è su Malve cioè proprio al confine di Malve dove ha creato un bed and breakfast secondo cioè ha secondo queste idee sue di partecipazione di ritorno di restituzione del luogo alla sua storia questo questo posto si chiama Cavea si chiama un bed and breakfast con varie stanze c'è una grande un grande ambiente cucina dove lui non solo cucina ma intrattiene gli ospiti con questi racconti che riguardano Matera il vicinato il luogo il luogo in particolare quindi ha come dire rielaborato no ha riconvertito quelle idee in una pratica contemporanea che è una pratica legata poi a ciò che sta accadendo oggi cioè al turismo al turismo al periodo di oggi in cui il turismo è la fonte principale di reddito sta diventando di questa città e infatti Malve è cambiato lui è andato via ha creato questo bed and breakfast però per esempio dove c'è il forno dove c'era il forno di San Leonardo è stato creato una sorta di museo della paleontologia se non sbaglio poi abbiamo visto quello è diventato un bed and breakfast insomma ci sono altri bed and breakfast tutto l'ambiente si è modificato e quindi abbiamo stavo dicendo rispetto al luogo una nuova fase in cui gli abitanti solo dopo la fine di questo periodo politico hanno cominciato come vedete anche qui adesso vedete là un'altra abitazione dove si vedono le piante a privatizzare gli spazi e a creare delle piccole oasi di verde intorno alle abitazioni in quel periodo poi tra l'altro c'era anche una radio che si chiamava Progetto Radio nella quale alla quale partecipava collaboravano degli abitanti di Malve e anche altre persone esterne e che sosteneva tutto il discorso dell'occupazione di Malve ecco dove volevo arrivare sì alla storia di Ralph Ralph è uno degli abitanti di di Malve un tedesco che appunto è arrivato lì non per ragioni non per vediamo se recupero la sua storia magari ve li porto qualche passo non per ragioni politiche ma perché lui voleva cercare un luogo dove stare nel silenzio e gli fu suggerito di andare a Madea siamo se non sbaglio nel 1981 dunque intanto ho dei brani dalle interviste per esempio a Rita Montinaro che è stata una delle abitanti di Malve quando le abbiamo chiesto perché sceglieste proprio questo rione della città lei ha risposto sia per questi motivi simbolici dal punto di vista politico e antropologico quindi il rione Malve era stato il rione molto studiato da Lidia De Rita da tutto il gruppo degli anni cinquanta cose che abbiamo visto era anche molto presente nella cultura dei ragazzi di quell'epoca si accostavano a questo che già era un problema della città quello dell'abitabilità dei sassi eccetera e quindi per aprire la città gli abitanti organizzavamo delle domeniche di apertura alla città che era invitata a venire a vedere come erano state ristrutturate le case in modo veramente molto artigianali le ristrutturazioni sono avvenute in modo molto autarchico c'era la cultura del non modificare non solo l'esterno ma anche l'interno per un eccesso di rispetto dei luoghi per cui ricordo che nella casa dove ho abitato c'è stato un grandissimo lavoro di scalpellatura e di ripulitura dei soffitti perché si decise di riportare tutto al tufo di fare emergere quel tufo che negli anni precedenti era stato intonacato e imbiancato quindi bisogna dire una cosa è che questa era un'idea loro e ancora oggi attuale del fatto che l'originario aspetto delle abitazioni fosse quello del tufo a vista ma non è vero perché tutte le abitazioni erano imbiancate o con dei colori tipo il celestino il rosa molto chiaro eccetera che voi a volte se andate nei sassi trovate ancora qualche qualche traccia di questi colori sui muri però c'era l'idea appunto che riportare tutto all'originario all'originaria condizione fosse quella di togliere qualsiasi cosa qualsiasi superficie aggiunta e di tornare al tufo quindi il grandissimo lavoro fu fatto proprio in prima persona senza utilizzare operai e qui c'era molta ideologia che il lavoro manuale potesse rendere tutti uguali questo è molto importante per capire perché facevano questo in quel contesto storico sociale dove diciamo l'idea di uguaglianza consisteva nel far fare diciamo a tutti sia lavoro manuale che lavoro intellettuale e quindi diceva appunto Rita c'era molta ideologia che il lavoro manuale potesse rendere tutti uguali e mi ricordo queste giornate nella polvere completa nella tufina sulle impalcature a scalpellare era un'immagine molto frequente per chi frequentava il rione in quegli anni comunque Ralph arrivò qui appunto per perché gli era stata suggerita Matera come luogo del silenzio e quindi occupò una casa e ancora vive in questa casa del rione Malve quindi c'è tutta un'ideologia diciamo più IP possiamo dire più legata all'ambiente alla natura a uno stato di natura che che ogni tanto ritorna perché io ricordo per esempio una delle ultime interviste che ho fatto a un ragazzo giovane ospitato da uno degli abitanti di passaggio gli chiesi ma tu come immagini questo paesaggio nel futuro e lui disse che lui se lo immaginava con dei cavalli selvaggi che stavano di fronte sulla gravina quindi quindi c'era tutto un immaginario di natura selvatica per cui quel luogo proprio per questo sta a metà tra la città tra la civilizzazione e la selvatichezza è uno stato di natura degli abitanti che cosa succede con il turismo è che cambiano molte cose però nel frattempo dicevo l'idea di comunità è stata utilizzata dalla fondazione ma è stata utilizzata anche dalla fondazione anche quando ha invitato il gruppo a Monastry quel gruppo di sei no non erano sei adesso non mi ricordo quanti fossero però erano soprattutto stranieri che hanno costruito una piccola comunità nei sassi di Matera facendo delle attività legate al progetto di Matera 2019 oppure anche all'idea che lì c'è Santa Lucia alle Malve quindi il concetto di vicinato di vita collettiva si collega anche al monachesimo alle situazioni in cui i monaci vivevano in quegli il convicino di Sant'Antonio se non sbaglio si chiama così che sta lì poco sotto Malve quindi c'è tutta una cultura ecco del che non possiamo più dire più dire del vicinato ma della comunità in cui il vicinato è una di queste forme così come poi è diventato una delle forme l'occupazione delle case col turismo invece cambiano molte cose cambia il paesaggio cambia il soundscape cambiano i suoni ci sono attività diverse c'è il passaggio dei turisti e cominciano a nascere anche delle dei problemi con gli abitanti tra queste due concezioni quella degli abitanti di Malve che vogliono diciamo fare di Malve un luogo di natura ma fino a un certo punto perché poi alcuni di essi tipo il baretto di Stone Age è di proprietà di uno degli abitanti di Malve che comunque ci ha costruito un'attività legata al turismo che ha lasciato per tanti anni quel baretto in condizioni molto primitive infatti una casa che si chiama Stone Age l'età della pietra poi dopo alla fine l'hanno ristrutturato l'anno scorso se non mi ricordo male quindi l'hanno reso più fruibile per il turismo hanno accettato l'idea che il turismo esiste diciamo e non può farsene a meno mentre qualcuno invece resiste ancora e uno di questi è l'abitante di questa casa a destra è appunto quella di quella di Ralph che vive Malve ancora in una come un luogo di natura più che un luogo urbano aveva piantato degli odori delle piante selvatiche delle piante di officinare di di rosmarino di menta di salvia su una roccia accanto a questa porta alla nostra destra e poi queste piante gli sono state gli è stato imposto di rimuoverle perché secondo l'albergo che sta sotto e avrebbe reso umide i rumidi soffitti delle stanze che stanno sotto naturalmente Ralph dice che non è vero e comunque ecco qui il conflitto tra due visioni del mondo e di Malve molto diverse che io ho rappresentato con queste due porte la porta a destra è quella di Ralph che come vedete non è nemmeno dipinta cioè proprio ha lo stato di natura se non sbaglio anche dei vetri antichi e a sinistra invece la perfetta porta diciamo in stile minimal dell'albergo adesso non mi ricordo più come si chiama l'albergo che sta sotto esattamente sotto questo questa superficie che vediamo che ha occupato questa casa che in realtà è una casa che secondo i regolamenti comunali spetterebbe a Ralph perché il regolamento comunale prevedeva adesso non so come se è cambiato come è cambiato che un proprietario poteva annettersi una un eventuale locale vuoto se confinante con la sua abitazione e qui da questo questo conflitto diciamo è sfociato in una vera e propria causa eh tra Ralph e l'albergo eh che se non sbaglio nelle ultime notizie che ho perché adesso sarà più di un anno che non visito Ralph si stava diciamo risolvendo a favore di Ralph però non sono sicurissimo fatto sta che questa immagine ci dà l'idea appunto di come io ho detto due visioni del mondo qui e forse anche concluderei a questo punto con queste altre immagini che ci mostrano la continuità del concetto di vicinato e di comunità come una risorsa una risorsa culturale ma anche identitaria economica che caratterizza le attività anche le attività alberghiere di materia che sfruttano questi sfruttano nel senso buono della parola possiamo dire questa idea di vicinato attraverso l'utilizzo dei cortili sui quali si affacciano queste strutture alberghiere oppure riproducendo all'interno dei loro dei loro dei loro spazi delle camere che vogliono diciamo riportare il visitatore a un'esperienza di vita contadina diciamo molto molto naif molto primordiale diciamo per cui lasciando quanto più possibile ma è un contadino uno stile contadino naturalmente rivisitato è molto facile da abbinare a un'idea di minimal di forme semplici ecco possiamo dire che rispecchierebbero poi la semplicità delle forme degli oggetti che c'erano in una casa in una casa contadina e quindi l'idea del vicinato è quella di un'idea prolifica che continua a alimentare un immaginario e delle produzioni culturali o commerciali che stanno continuando nel tempo ecco qui vedete altre immagini naturalmente una vasca da bagno così come era nella foto in alta strisla non esisteva il bagno si faceva in tinozze anche più di una persona nella stessa acqua a sinistra e in basso vedete una sorta di riproduzione di un vicinato in realtà è l'albergo ecco qua una scomodissima abitazione che della stanza di un albergo scusate in cui si imita un ambiente contadino e qua ci sono alcune alcune alcuni commenti che ho ritrovato anni fa che hanno lasciato i visitatori dell'albergo Sextanzio che rivivono in questo luogo una magia un ritorno al monachesimo quindi un ritorno a uno stile meditativo a un abitare in solitudine che fa bene allo spirito così come faceva bene allo spirito l'isolamento in cui vivano i monaci benedettini le monache di Santa Lucia alle Malve non le leggo le potete leggere tra di voi tra voi questo per concludere credo che sia l'ultima no non ancora è il posto dove di Fabrizio Zampagni cavea lo vedete insieme a degli ospiti una struttura comunitaria non ci sono i tavoli separati è un unico grande unica grande tavolata dove gli ospiti poi dialogano con lui che fa da narratore di queste storie e qua invece non è tanto l'idea del vicinato contadino ma dell'hotel come vicinato spirituale cioè queste stanze si rifanno più all'idea dell'isolamento dei monaci quindi a un'idea di di eremitaggio che il turista può vivere nei sassi e questo è l'ultima slide in cui appunto ci sono tutte le modifiche che stanno sta subendo malve uno per esempio delle lamentele dei abitanti di malve è il consumo del suolo che sta subendo malve questa è una cosa alla quale nessuno ci pensa però in realtà mi hanno fatto notare che per esempio le tombe la zona del cimitero barbarico quella in basso a sinistra sta subendo una forte usura tanto da diminuire diciamo si sta abbassando il suolo si sta consumando con tutti questi centinaia e migliaia di turisti che ci passano sopra e quindi oppure mi hanno fatto notare di quegli interventi assurdi di messa in sicurezza che hanno stravolto un po' non voglio dire la natura del luogo ma insomma l'identità del luogo almeno io ho finito qui per ora spero una cosa che mi veniva da pensare mentre parlavi e parlavi anche di turismo e di come insomma tutto il nostro passato recente andasse nella direzione che tu ci hai fatto vedere ma adesso sarà contento insomma il signor visto che il turismo praticamente è finito mi piacerebbe molto poter parlare esatto questo volevo dire in che modo adesso tu pensi di proseguire la ricerca considerando anche questa attualità che ci riguarda e che riguarda massimissimissima parte la questione turismo che non c'è e chissà quando tornerà ah sì certo questa è una una bella domanda interessante perché bisognerebbe bisognerebbe eh parlare adesso con gli abitanti mh e mi hai dato anche appunto un'idea di poter parlare con loro per capire che naturalmente avremo risposte diverse perché magari Ralph sarà super contento ma non credo invece l'altra abitante proprietaria del del baretto perché quello era una fonte di reddito in qualche modo quindi anche in questo caso non possiamo dire che c'è una risposta univoca e dobbiamo pensare che che queste visioni del mondo per fortuna sopravviveranno nel loro conflitto anche io mi auguro che sopravviveranno che diciamo che degli angoli come quello che ha costruito Ralph sopravvivino al turismo in ogni caso però questo è interessante diciamo siamo in una situazione diversa che naturalmente può essere esplorata solo con i mezzi che abbiamo a disposizione telematici perché non posso andare sul posto appena sarà possibile lo farò però per vedere che succede ma insomma non credo che uscirò di casa per poter andare lì però potresti fare delle telefonate per dire diciamo che aria tira potrebbe anche essere interessante come dire perché credo sia un momento disperato per la città io lo posso fare perché sono in contatto su facebook almeno con alcune persone sono in contatto con la proprietaria del baretto quindi posso raggiungerle con il telefono e chiedere qualcosa sì è un cambiamento proprio epocale come ben sappiamo e a maggior ragione poi con l'anno scorso che aveva fatto preconizzare tutt'altri scenari magari non di necessariamente di un'ondata così continuativa però insomma mai avremmo potuto quindi sì adesso bisognerà proprio capire qual è un altro scenario possibile e credo che anche in questo anche l'antropologia può dare il suo importante contributo insomma secondo me può essere interessante per gli studenti vedere come appunto i nostri lavori sono tutti intrecciati e con il lavoro dell'architetto insomma quanto siano importanti sguardi altri per poter poi fare un ragionamento sul progetto il discorso della diciamo dell'interazione tra la prospettiva dell'etnografia e dell'antropologia e quella delle altre discipline nel caso l'architettura la pianificazione urbana eccetera è non sta nel fatto che tanto che qualcuno deve decidere cosa si deve fare l'antropologo o l'urbanista il pianificatore eccetera ma nella consapevolezza di quello che si fa perché il problema è porsi delle questioni e dare delle risposte cioè per esempio rispetto a un luogo del genere come dovrebbe agire il progettista diciamo l'architetto il pianificatore non so il paesaggista non so come definire la figura no non lo so dovrebbe però certamente non dimenticare tutte queste storie che ho raccontato io e quello che fa il progetto che ne risulterebbe dovrebbe il progetto risultante da questa diciamo questa indagine dovrebbe non non voglio dire tanto tener conto ma avere delle buone ragioni per non tener conto di queste cose ecco più che altro quando non ne tiene conto comunque Francesco ti posso consolare il buon architetto non è che ce ne siano tantissimi chi è ne conto di tutto quello che tu hai detto degli studi che vengono fatti da altre discipline infatti l'architettura è una disciplina di sintesi abbiamo scoperto che anche la geografia in questi seminari è una disciplina di sintesi anche se come dire ho una qualche difficoltà sì è una sintesi di più segni che vengono esemplificati poi nelle descrizioni delle mappe l'architettura nel suo statuto dovrebbe tenere conto di tutto questo dovrebbe tenere conto della fisicità delle persone dei corpi stamattina abbiamo fatto un bellissimo seminario lavorata via sul rapporto dei corpi con poi l'architettura cioè ciò che poi contiene accarezza limita i corpi umani ma anche gli altri corpi il tema è che è una disciplina anche questa che si è un po' persa forse come tante perché ha enormi difficoltà di essere sistematizzata forse è impossibile sistematizzare l'universo no ovviamente però diciamo nella norma dovrebbe tenere conto poi altra cosa per esempio appunto proprio nei giorni scorsi prima di questa emergenza per puro caso facendo un giro in quei luoghi che sono anche luoghi dell'anima in qualche modo ovviamente vedi che hanno messo le mani le hanno messe pesantemente poi magari se tu chiedi si giustificano dicendo che erano interventi tecnici per sistemare le fogne piuttosto che sistemare il pavè perché è troppo scivoloso eccetera ma ti rendi conto che sono interventi fatti con l'ignoranza ignoranza proprio di prima di tutto tutte le cose che tu hai raccontato ignoranza di che cosa è un paesaggio ignoranza di che cos'è la sostanza di questa città il massimo che si pensa è il restauro filologico ma anche quello è un errore perché non si può come dire musealizzare cristallizzare la vita la vita è una cosa che si muove è una cosa come dire che ha un'evoluzione positiva negativa però è appunto la vita è in movimento e come dire ha un po' l'architetto un rapporto a me piace tanto quando tu ovviamente ho sentito altre direzioni quando tu spieghi la base dell'antropologia per me è sempre affascinante allora io prima la guardo perché sto dentro poi perché la guardo da lontano poi perché ho l'interazione più o meno l'architettura è fatta così cioè di vari posizionamenti di gruppi di team perché l'architettura non è mai un'azione solitaria è sempre un'azione collettiva che si sposta nei vari punti di vista e che si appropria delle conoscenze dei dati degli approfondimenti delle altre discipline poi altra cosa sono gli esiti che sono fatti da persone che magari hanno pure una laurea in art davanti al loro nome ma che non lo sono come in tutte le cose come ci sono medici che non sono capaci di fare i medici o gli antropologi che non sono capaci di fare gli antropologi e purtroppo proprio stamattina abbiamo affrontato anche questo tema che noi viviamo in una realtà dove la competenza la conoscenza non è riconosciuta e come dire poi le cose le fanno tutta una serie di personaggi che non hanno nessuna capacità di fare appunto avere tutte quelle attenzioni tutte quelle intenzioni che vengono dallo studio dalla conoscenza che ti consentono di fare meno errori possibili cioè non di fare la cosa ma sicuramente la cosa che contiene meno errori va bene io spero che con questa lezione non so come chiamarla di avervi dato se mai aveste avuto uno stereotipo dell'antropologia che si occupa dei primitivi come si suol dire o dei contadini spero di avervi dato l'idea che l'antropologia si occupa in modo anche interdisciplinare cioè tenendo conto di altre di altri aspetti del conoscere che forse appartengono ad altre categorie che però è possibile utilizzare all'interno di una ricerca etnografica spero quindi soprattutto di aver vi dato l'idea che gli antropologi non studiano solo quelli che con l'anello al naso come si suol dire ma possono studiare anche situazioni contemporanee come quella quella di Malme eh sì era proprio questo che dicevo prima come tutte le discipline ci possono aiutare possono aiutare l'architetto a comprendere il territorio per poi fare delle scelte che sono ovviamente le sue però ecco a questo anche i seminari che la professoressa Macaione sta organizzando vanno proprio in questa direzione nella comprensione più larga per poi prendere le decisioni più disciplinari quando si tratta del progetto insomma ringraziamo Francesco Marano per questa bella lezione questa bella esplorazione da un punto di vista diverso da quello che facciamo noi quando cominciamo e che però è una lezione importante poi per il progetto nel momento in cui io avessi la fortuna di dover fare un progetto a Malve ne sarei felicissima ovviamente chiamerei subito Francesco per farmi aiutare a capire cosa fare che d'altro canto come dire nell'esperienza del progetto di fattibilità del DEA abbiamo fatto cioè come dire gli antropologi erano importantissimi in quel progetto peccato che non si fa e vengono fatte quelle setecchie scusate il mio termine però anche questa esperienza che è stata fatta sul vicinato a Pozzo io personalmente ritengo che è un'operazione che non va bene agli architetti ma non va bene credo anche agli antropologi che hanno una visione come dire più contemporanea e con l'idea del trasferimento di una conoscenza acquisita io come dire sono basita da quell'operazione anche perché appunto noi avevamo immaginato un mondo diverso un mondo forse più come dire che si confrontava di più con il contemporaneo comunque pazienza prima e poi succederà qualcosa di positivo anche dopo il coronavirus almeno un premio no ma io appena posso appena potrò andrò a vedere il vicinato a Pozzo così come è stato allestito perché già queste fotografie che ho trovato pochi minuti prima di collegarmi vedete eh no adesso non le potete vedere ma c'era hanno messo dei fili con delle frasi dicono dolente bellezza ferocemente antica che già solo che le leggo mi irritano non so vabbè non ho detto che proprio gli antropologi poi ci sono stati due casi in cui abbiamo lavorato in cui io personalmente ho lavorato e poi non si è fatto niente nel primo caso è un progetto quello del museo antropologico dove c'era anche la professoressa Macaione altri nostri colleghi io feci il progetto culturale del museo che però poi è stato messo nel cassetto e hanno pensato di farne un altro nonostante avessimo vinto il primo bando diciamo e poi nel secondo caso questo anche per dirvi lo dico non tanto per diciamo come dire vantarmi di queste cose ma per dire che poi gli antropologi si inseriscono in questi progetti perché per esempio nel caso del parco delle cave anche io ho fatto il progetto culturale del parco delle cave progetto che avrebbe vinto perché è arrivato il primo se non avesse poi incontrato un problema di tipo burocratico per cui è stato assegnato al secondo vincitore tra parentesi sempre per capirci sempre per capirci sì spero che nessuno dica non mettiamo gli antropologi che portano sfiga a questo punto perché no noi i bravi architetti continueranno a chiamarli gli antropologi per farsi aiutare quindi stai tranquillo non mettete i geometri che portano sfiga perché il secondo la colpa era di un geometra vabbè allora grazie ancora Francesco grazie Silvana per le sue provocazioni vi saluto Ina Silvana e tutti gli studenti grazie per aver partecipato grazie a te ciao Francesco ciao 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 grazie a te